Sì, stiamo rispettando un impegno e credo che è una grande risposta per il Comune di Pontremoli soprattutto per gli abitanti della frazione di Cervara che con questo ponte avranno un collegamento diretto con il capoluogo. In un momento pur difficile per quanto riguarda gli investimenti e le casse pubbliche credo che aver dato questa risposta sia un gesto di attenzione da parte della Regione nei confronti di territori che dal punto di vista geografico magari sono lontani da Firenze ma che sono comunque nel cuore e nella mente della Regione e lo stiamo dimostrando anche in questo caso con i fatti.